Ciao a tutti da Patrizia e Giuseppe, eccoci alla nuova ricetta della tua personal fish shopper. Oggi cuore di merluzzo e zenzero. Bene, allora cuciniamo. Cominciamo con il cuocere le patate, le mettiamo dopo averle lavate con la buccia direttamente in acqua bollente. Le lasciamo poi cuocere circa 45 minuti. Prossimo passaggio della ricetta, prendiamo il nostro cuore di merluzzo, che è praticamente la parte centrale del filetto. Ne tagliamo a ricavarne un trancio da porzione, così. Andiamo a metterlo sottovuoto senza aggiungere nient'altro, perché essendo fresco ha già un ottimo sapore di suo. Questo è il risultato, il merluzzo sottovuoto, e andiamo a buttarlo in acqua calda. Dovrà cuocere per 40 minuti a 50 gradi. Nel frattempo le patate sono pronte, le abbiamo scolate e le abbiamo sbucciate. Esatto, le abbiamo messe in questa ciotolina e le schiacciamo leggermente con una forchetta. Una volta ben schiacciate, possiamo aggiungere un pochino di zenzero tritato, dell'aneto fresco, anche questo leggermente tritato. E in ultimo, un goccio d'olio. Questa sarà la nostra patata schiacciata. Eccola qua. Maneggiamo con cura il merluzzo. Andiamo a comporre il piatto preparando due chenelle di patata. Il nostro merluzzo. Andremo a decorare con un ramettino di lemongrass fresca. Ecco qua. E il piatto è pronto. Arrivederci alla prossima ricetta. Grazie. Grazie.